ecco vediamo questa nostra rete 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 ha segnato la virtus Castelfrenzano non ho visto dalla regia 3 a 3 pareggio ha realizzato il pareggio il numero 9 Andrea Nasuti un bel gol adesso palla centro e ripresa del gioco da parte del Casalbordino che è il gioco con la divisa rosa nero calzettone rossi mentre noi con la classe della divisa giallo rossa i stessi colori sociali del Casalbordino 3 pareggio